Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi cerchiamo di dare una direzione alla Juventus, alla rosa della Juventus attuale. Cerchiamo di capire quelli che sono i calciatori che se ne andranno al 100%, quindi quelli che saranno out dalla rosa attuale della Juve nella prossima stagione. Quelli che molto probabilmente se ne andranno, quindi al 99% out dalla rosa della Juventus. Quelli che sono nel limbo, quindi gli indecisi, quelli che si potrebbero cedere, che potrebbero essere sul mercato, che dipende da un'offerta, che non abbiamo ancora ben chiaro se rimarranno alla Juventus oppure no, se ci sono problematiche particolari. Quelli che al 99% invece saranno in, in cui si sta discutendo di rinnovi o robe del genere. Quelli che al 100% rimarranno in rosa della Juventus perché è già stato dichiarato. Oppure altro, perché ci sono alcuni giocatori che finiscono nella categoria altro e non solo giocatori, vedremo successivamente. Vi dico subito che possiamo fare questa stessa tier list anche per i possibili potenziali papabili acquisti. Quanti nomi sono usciti per la Juventus in queste settimane? E quindi dipende da voi. Se vi piace questa idea con la tier list lasciate almeno 2000 like e io ovviamente vi porto, appena ci saranno più nomi magari, anche la tier list dei possibili e potenziali acquisti da parte della Juventus, di quei nomi che sono impossibili, quei nomi che si erano fatti e che sono andati da altre parti. Cerchiamo di analizzare un po' tutto insieme. Tra l'altro questa tier list la potete fare anche voi, trovate il link qui sotto in descrizione. È la stessa tier list che utilizziamo per le pagelle, ho solamente rinominato le etichette e quindi potete tranquillamente passare qui sotto in descrizione e fare la stessa cosa e anzi magari taggatemi nelle storie su Instagram per farvi capire non quello che vorreste fare voi. Attenzione, questo non è quello che vorrebbe fare Luca, quello che vorreste fare voi. Questo è quello che molto probabilmente accadrà per cercare di avere un'idea su quella che sarà la rosa della Juventus l'anno prossimo perché diversi tasselli si stanno incastrando, lo vedremo in questa tier list. Direi di iniziare subito. Il primo è Scesni. Allora, Scesni. Io penso proprio che al 99% Scesni rimarrà alla Juventus. Non vedo il motivo di cambiare Scesni. Ad oggi forse anche viene da una stagione fatta bene dove ci sono stati degli errori iniziali, ovviamente lo sappiamo, ma questo non l'ha condizionato. Anzi, il rendimento di Scesni è rimasto alto, in tante partite ci ha salvato. Non penso che la Juventus vorrà andare a fare un'operazione lì in porta, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso, un'offerta per Scesni che ad oggi sembra utopia, quindi molto probabilmente, perché quel 99% si traduce molto probabilmente, rimarrà Scesni e la Juventus e sarà il nostro portiere anche l'anno prossimo. Mattia De Sciglio. Mattia De Sciglio lo metto al 99% in perché è notizia fresca fresca di queste ore. Mattia De Sciglio dovrebbe rinnovare per tre anni il suo contratto con la Juventus. Scelta giusta? Scelta sbagliata? Ce lo dirà soltanto il tempo. Per quanto mi riguarda De Sciglio come riserva ci sta, ovviamente è un rinnovo al ribasso, si parla di circa un milione e mezzo, forse due, ma le cifre non sono ancora chiare, quindi molto al ribasso rispetto ai circa tre milioni che percepisce attualmente. è ovvio che questo rinnovo triennale a me fa pensare una sola cosa, ad Allegri mancano ancora tre anni di contratto, a De Sciglio fanno tre anni di contratto perché magari è stata una richiesta dell'allenatore, quindi venga la richiesta dell'allenatore, è ovvio che sto pensando anche alle ultime partite che abbiamo giocato in Champions League, quella a eliminazione diretta, quella con l'Ajax, c'era De Sciglio, quella con Villaral c'era De Sciglio, che non sto dicendo che è colpa sua, sto dicendo che De Sciglio nella mia idea è una riserva della Juventus, è quindi un giocatore di seconda linea, se poi nelle partite clou importanti dell'anno, là dentro o fuori ci presentiamo con De Sciglio titolare, perché gli altri difensori, gli altri terzini non sono all'altezza, o non sono disponibili, allora il problema non è tanto De Sciglio, quanto più i giocatori titolari, e allora lì dovremo andare a investire, perché comunque da qualche anno lo sappiamo. A sinistra, non so da quando non interveniamo, perché Pellegrino è ben preso con uno scambio, e lì è lì da sei anni, sette anni, una roba del genere. A destra abbiamo preso Danilo l'anno scorso, però anche lì, sì, Danilo ci sta, per l'amor di Dio, però dobbiamo cercare di fare anche qualcosina di più, probabilmente. Non è forse la priorità a destra, la priorità assoluta è a sinistra, bisogna valutare l'opzione di Alessandro, ci arriviamo. Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini, notizia di ieri, abbiamo fatto il video, al 99% sarà out dalla Juventus. Il capitano, non so quanti anni ha dedicato alla Juve, penso dal 2005 ad oggi, quindi qualcosa come 17 anni di Juventus, quindi tanta tanta roba, Giorgione, mi dispiace un sacco non vederlo più con la maglia della Juve. È ovvio che il tempo passa per tutti, Giorgio quest'anno farà 38 anni senza il Mondiale da giocare, non avrà più stimoli di continuare la Juve e le sue ultime stagioni purtroppo con l'agonia legata agli infortuni l'hanno portato a riflettere e andare in MLS, quindi al 99% sarà out. E adesso vi voglio perché c'è Matthijs De Ligt. Dove lo ficchiamo Matthijs De Ligt? Io Matthijs De Ligt ve lo metto nel limbo perché è il classico giocatore che la Juventus non vorrebbe cedere, vorrebbe addirittura rinnovare il contratto, addirittura si parla, si mormora che internamente allo spogliatoio si voglia affidare la fascia Matthijs De Ligt vista l'accessione di Chiellini e quella che vedremo tra poco di Paolo Di Bala, quindi si pensa che De Ligt possa essere il capitano futuro della Juventus. Il fatto che sia un giocatore della scuderia di Mino Raiola mi impedisce di rimanere tranquillo, ma ha maggior ragione dato che quest'anno si attiverà una clausola che dovrebbe essere sui 120, 130, 150 milioni di euro, quindi una clausola altissima. io non credo che verranno a togliercelo per quei soldi lì perché sono veramente tanti soldi, ovviamente il rischio c'è, lo metto nel limbo proprio perché per quanto mi riguarda sarebbe da 99% in, nel senso l'offerta l'accettiamo solo se davvero 150 milioni di euro che non si sono mai visti per un centrale. Attenzione che potrebbe non essere così perché è il perché, lo sappiamo tutti, per quanto mi riguarda rimane, la mia sensazione rimane. Però lo metto nel limbo proprio perché c'è la possibilità che l'Aventus magari possa fare una macrocessione che quella di The Elite io non sarei d'accordo, lo sapete, ma questa è la mia opinione. Nel limbo ci va pure Arthur, signori, perché Arthur è il classico giocatore che teoria sul mercato se arriva un'offerta, non è un titolare insostituibile, inamovibile, anche Allegri ci ha fatto capire che sì, sul lungo, sulla crescita è diventato un giocatore importante, non dimentichiamoci che Arthur era lì lì per lasciare la Juventus già nel mercato di gennaio, direzione Arsenal, poi non si è trovato l'incastro, l'accordo, la Juventus ha un po' tergiversato e quindi Arthur è rimasto. Io non do per scontato alla permanenza di Arthur, a maggior ragione se la Juventus vorrà poi fare un investimento grosso a centrocampo con un innesto, con delle caratteristiche più idonee a quelle che sono le richieste di Allegri, quindi secondo me Arthur rimane nel limbo, un giocatore che potrebbe rimanere come no a seconda di quelle che saranno le offerte. Danilone, 99% in, 99% in, penso che sia un giocatore destinato a rimanere alla Juventus, addirittura qualche settimana fa si parlava di rinnovo a vita per Danilo, allora Danilo è un classe 91, dovrebbe avere il contratto in scadenza tra due stagioni, non penso che sia una priorità della Juventus rinnovare il contratto di Danilo, è anche vero che magari la Juventus sta cercando un rinnovo contrattuale per questo giocatore a vita, nel senso che magari aggiungerà un anno, due anni, e quindi Danilo si ritroverà molto vecchio al termine del contratto, cercando di spalmare quello che è l'ingaggio di Danilo, perché Danilo dovrebbe prendere qualcosa sui 5, 6 euro, non ricordo esattamente la cifra, magari la Juve la ritiene eccessiva per un giocatore che si sta facendo bene, ma che comunque, insomma, sopra la trentina, pagare quella cifra lì per un difensore, magari è un po' troppo, allora magari la Juve sta cercando di spalmare, non lo so, io non penso che la Juventus abbia come priorità il rinnovo di Danilo, è anche vero che se ragiono sull'ambito economico puro, potrebbe voler spalmare l'ingaggio, quindi secondo me al 99% Sarain, Danilo è uno dei veterani, davvero un capitano senza fascia all'interno della Juventus, lo stesso Allegri ha speso parole al miele dolcissime per Danilo in questa stessa stagione, quindi penso proprio che rimarrà. Diverso il discorso per Aaron Ramsey, che è il primo che finisce negli out definitivi, perché? Perché Ramsey, ragazzi, già è andato fuori a gennaio, i Rangers non sarebbero convintissimi di riscattare Aaron Ramsey, che avrebbe un altro anno nel contratto con la Juve e allora o si ragiona su un altro prestito annuale o su una recessione consensuale, perché alla Juventus spazio per Ramsey, ragazzi, non ce n'è, è inutile girarci intorno, la Juventus, Ramsey non andrà a investire su Ramsey, non andrà a credere su Ramsey, sul ragazzo, quindi cercherà una soluzione per Ramsey, quindi è il primo che sarà out al 100%. Alvaro Morata finisce nel limbo pure lui, perché sappiamo tutti la situazione di Alvarito Morata, prestito all'atletico, quest'anno la Juventus dovrebbe riscattarlo per via di normative FIFA che entrano in vigore da questa estate e non si può allungare di un altro anno il prestito, quindi decidi, prenderlo e lasciare, tuo o non tuo. La Juventus sta trattando a ribasso, l'atletico non sembra proprio convinto di voler farlo sconto, a 35 milioni la Juventus non lo riscatta, quindi dipenderà molto dall'idea dell'atletico. Probabilmente Allegri chiederebbe alla Juventus su uno sforzo per mantenere rosa Alvaro Morata, però insomma ad oggi le voci sembrano andare verso il a queste condizioni Morata non può rimanere alla Juventus, quindi finisce nel limbo perché dipende tutto dalla trattativa. E invece Paolo Di Bala non è nel limbo ma finisce negli out, assolutamente negli out perché sappiamo bene la situazione legata a Paolo Di Bala, inutile stare qua a spendere altro tempo per parlare di qualcosa di già chiuso, super chiuso, sappiamo che ve lo metto negli out perché qualcuno ancora mi chiede ma Luca ma c'è una possibilità che Di Bala rimanga a Juventus? Per me no, per me no, almeno che non cambi tipo tutto in società che succede il di là, per me no, per me non ci sono possibilità e questa è la dimostrazione. Poi nel calcio tutto può accadere, non me la sento di mettere nel 99% out perché la comunicazione ufficiale della Juve è la seguente, Paolo Di Bala l'anno prossimo non sarà un calciatore della Juventus, poi che possa cambiare domani magari il sole non sorge, ragazzi, è probabile che sorga, c'è quella minuscola remotissima possibilità, è possibile, è probabile che però il sole domani sorgerà ed è probabile che Di Bala l'anno prossimo non sarà un giocatore della Juventus, Juan Quadrado, qua invece ce lo giochiamo con il primo, rimane perché è stato ufficializzato, il rinnovo di contratto per un'altra stagione, Juan Quadrado, c'è questo dubbio legato al voler spalmare sul biennale, magari c'è un'opzione per il secondo al ribasso, noi questo non lo possiamo sapere, ufficialmente Quadrado ha rinnovato e sarà la Juventus nel 2023, poi magari anche qua può succedere tutto, che ne so, impastisce il PSG lo vuole comprare una puntenata così, però Quadrado dovrebbe essere un giocatore della Juventus l'anno prossimo. Alex Sandro, questo per definizione va nel limbo perché ragazzi, personalmente non credo che ci sia futuro per Alexandro a Juventus, da dire il fare c'è in mezzo il mare perché Alexandro ha un altro anno di contratto con la Juve, ha uno stipendio importante, la Juventus sarebbe disposta anche a cederlo praticamente gratis pur di liberarsi a spazio salariale, Alexandro però avrà voglia di andare a qualche altra parte e riuscirà a trovare eventualmente una squadra che possa accontentarlo come intanto stile di vita perché magari vuoi vivere in un certo posto ingaggio a livello proprio di lavoro, è una squadra che e quindi non lo so siccome sarà difficile cedere a Alexandro vediamo se ci riusciremo o no quindi proprio limbo, limbo, limbo per definizione Weston McKennie dove lo ficchiamo Weston McKennie? Va nel limbo va nel limbo pure Weston perché è il classico giocatore che se arriva un'offerta a titolo definitivo sopra i 30 35 milioni allora ci si può pensare per caratteristiche che forse non è esattamente il giocatore che vuole Allegri che piaccia da Allegri che fa impazzire Allegri a maggior ragione se arriva un'offerta a titolo definitivo può partire se non arriva rimane semplice come l'anno scorso come quest'estate poi per me Weston è stato uno dei centrocampisti migliori della stagione quest'anno e quindi anche se non è esattamente il prototipo di centrocampista per Allegri il suo l'ha fatto l'anno scorso con Pirlo e quest'anno con Allegri poi purtroppo l'infortunio speriamo possa rientrare già al termine questa stagione però attenzione che se arriva un'offerta la Juventus potrebbe valutarla io Luca Pellegrini Luca Pellegrini mi tocca metterne in limbo pure lui perché c'è un po' di indecisione sul nome del ragazzo miei due centesimi Pellegrini prima stagione la Juventus ha fatto quello che doveva fare ma veramente molto bene non era facile non avendo mai giocato alla Juve fare una stagione nemmeno da titolare quindi entrare ogni tanto giocare a titolare secondo me la stagione di Pellegrini è super positiva per essere la prima la Juventus se devo ragionare sul fatto che magari l'anno prossimo Alexandro resterà per l'ultimo anno la Juve perché non lo riusciremo a vendere titolarità la diamo a Luca Pellegrini devi iniziare a ragionare sul fatto che possa essere titolare ma questo è il percorso giusto di crescita per un giovane si fa il primo anno alla Juve in cui si fa le sue esperienze da titolare ogni tanto è Luca ha fatto le sue e adesso valutiamo sul futuro poi anche qua se arriva l'offerta di 20 milioni per Pellegrini la Juve la prende in considerazione quindi non è un 100% rimane però secondo me Pellegrini è un giocatore che magari non sarà mai zambrotta per intenderci ma che può essere comunque un titolare affidabile se non hai grandi pretese sulla fascia sinistra o se per il momento non hai idee sul vorrei investire tanti soldi se non hai la possibilità di investire tanti soldi quindi dei limiti perché Luca ovviamente ha dei limiti ribadisco la prima stagione alla Juve io lo lascio nel limbo mi piacerebbe invece mantenerlo Moise Ken allora se dovessimo utilizzare il suo contratto e cioè c'è un altro anno di prestito sta qua rimane io non sono così convinto che succederà questo credo che la Juventus con Raiola appunto dato che parlavamo di Elite la Juventus cercherà un incastro una specie di favore fa in modo che non siamo costretti a fare l'altro anno di prestito perché poi ci tocca riscattarlo quando è un giocatore che noi vorremmo avere nell'out e quindi dacci una mano quindi rimane al 100% se ne va al 100% se finisce nel limbo tra l'altro io di Ken ho già parlato in un video e vi ho svelato vi ho dimostrato come secondo me la Juventus vorrebbe prendere Raspadori al posto di Ken vi invito ad andarvelo a vedere lo trovate comunque qui sul canale YouTube Leonardo Bonucci Leonardo Bonucci si potrebbe mettere nel limbo ma penso proprio che sarà il 99% in non vedo possibile ad oggi un'offerta da parte di un club straniero che possa cominciare la Juventus o magari quello sì ma cominciare Bonucci Bonucci quando va al Milan si accorge che la sua famiglia stava bene a Torino che la sua famiglia era rimasta a Torino c'era necessità di rimanere a Torino quindi Bonucci secondo me cercherà di concludere la sua carriera alla Juventus poi magari arriverà l'offerta non lo sappiamo il fatto che vada via anche Chiellini non penso che si possano cedere tutti e due nella stessa stagione oltre al fatto che De Litt è già nel limbo che Rugani poi è l'unico che rimane quindi io Bonucci lo lascio nel 99% penso proprio che Bonucci si farà un'altra stagione alla Juventus discorso diverso per un suo compagno nazionale con cui ha condiviso la vittoria dell'europeo Federico Bernardeschi che non si può ancora metterne l'out ma come dicevo ieri nello stesso video di Chiellini la Juventus molto probabilmente avrebbe comunicato a Bernardeschi che non rinnoverà il contratto non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali quindi non va nell'out al 100% rimane nel 99% fino a che non avremo un'indicazione della Juventus che ci dirà ecco Bernardeschi quindi rimane lì Caio Orge Caio lo metto in altro perché purtroppo ha una brutta storia cioè un brutto infortunio che lo terrà lontano dai campi anche l'anno prossimo comunque l'inizio dell'anno molto probabilmente e vediamo se recupererà non sarà da prima squadra Juve io me lo immagino andare in prestito da qualche altra parte anche per recuperare ovviamente non nel prossimo anno ma quello dopo ancora quindi Caio è una situazione particolare che finisce in altro poi c'è Federico Chiesa eh allora stesso discorso perché da contratto la Juventus non ha l'obbligo di riscattare Chiesa perché a meno che non ci sia che ne so se la Juve arriva almeno quarta nel campionato quindi arriva in Champions in questa stagione ecco che in teoria si ragionava su obiettivi personali di Chiesa che non avrebbe raggiunto in questa stagione per via dell'infortunio quindi ufficialmente la Juventus uff anzi ufficiosamente perché non sappiamo quali sono gli obiettivi sul comunicato di Chiesa non dovrebbe riscattarlo al 100% io lo lascio al 99% in perché penso proprio che la Juventus non possa lasciarsi scappare Di Bala Chiellini Bernardeschi Chiesa cioè dai ragazzi diventare un po' troppo quindi penso proprio che la Juventus quest'estate eserciterà il diritto di riscatto nei confronti di Federico Chiesa quindi me la sento di lasciarlo nel 99% in lascio proprio fuori quell'1% di sfiga che spero proprio che non venga ecco Pinsoglio c'è un altro anno di contratto potrebbe esserne rimane lo lascio nel 99% in perché non si sa mai che la Juventus abbia lo schizzo di voler cambiare il terzo portiere penso proprio che non avverrà quindi molto probabilmente Pinsoglio farà parte della Juventus anche l'anno prossimo Danielino Rugani ultimo anno di contratto alla Juventus quindi io lo lascio nel limbo perché se arriva un'offerta la Juventus la può prendere in considerazione anche perché Rugani è un ingaggio troppo alto per essere il quarto centrale di difesa della Juventus se non arriva l'offerta la Juventus se lo tiene gli fa fare l'ultimo anno di contratto la politica della Juve è questa c'è un giocatore in casa che è quel ruolo lì se arriva un'offerta bene parte allora poi ci muoviamo se non arriva un'offerta sta qua e alla fine del contratto va via l'abbiamo visto con Di Bala l'abbiamo visto con Perin che poi è stato rinnovato l'abbiamo visto con De Sciglio l'abbiamo visto con tutti con Bernardeschi con Quadrado la Juve non si muove se ha già il giocatore in casa gli fa fare la stagione e poi valuta a seconda di quello che è quindi Rugani rimane nel limbo come nel limbo ci rimane Rabiot perché avrà un altro anno di contratto stesso discorso che abbiamo fatto per Alexandro ha uno stipendio molto alto se arriva un'offerta difficile che arrivi perché deve soddisfare il ragazzo a livello economico deve soddisfare il ragazzo sotto il profilo professionale la Juventus penso che sia ben disposta a cedere Rabiot perché purtroppo ha un ingaggio troppo alto poi su Rabiot c'è il discorso del decreto crescita infatti l'altro giorno sentivo Nicola Balice da Lello da Colpo Gobbo che faceva un bel discorso i giocatori più che sul netto dovrebbero iniziare a ragionare sull'ordo che la squadra investe per le loro potenzialità quindi sull'ordo Rabiot non è che prenda chissà quale stipendio però lui di netto ha 7 milioni erotti forse anche con qualcosina di bonus per la Juve un po' troppo Manuel Locatelli beh Loca ne rimane mi sento di metterlo ne rimane perché soltanto quest'anno la Juventus ha finito di pagare il cartrino di Loca Locatelli ora è ufficialmente un giocatore della Juventus perché c'era l'obbligo proprio di riscatto da parte della Juve al primo punto effettuato nel girone di ritorno quindi Locatelli è un giocatore della Juventus è stato un giocatore scelto è il giocatore scelto da Massimiliano Allegri per Massimiliano Allegri per ricominciare il ciclo ha fatto una buonissima prima parte di stagione sul finale si sta un po' spegnendo un po' di infortuni un po' di tenuta fisica in callo ma penso proprio che derivi anche dal fatto che Locatelli è stato uno dei pochi veramente a tenere a galla la baracca nella prima parte di stagione quindi Locatelli rimane sono abbastanza convinto che rimanga così come assolutamente rimane Zaccaria che è arrivato a gennaio ci mancherebbe altro un altro giocatore comprato nel mercato invernale per il nuovo ciclo tassatecnico lo vendiamo rimane così come rimane Perini iniziano ad esserci tante certezze in questa casella Perini appena rinnovato fino al 2025 quindi ci mancherebbe altro che poi abbiamo il buon a che a che lo metto in altro perché potrebbe essere un giocatore messo in prestito stessa cosa per De Winter stessa cosa per Sule stessa cosa per Miretti sono i nostri ragazzi aggregati alla prima squadra qua si faranno delle valutazioni che io non posso prevedere in questo momento tra l'altro 3 su 4 di questi ieri li abbiamo visti impegnati nella Yacht League dove purtroppo siamo usciti ho fatto un video su questa cosa vi invito ad andare a vedere l'ultimo video caricato sul canale Vlaovic vabbè Vlaovic ragazzi non ve lo dico neanche Vlaovic stesso discorso per Zaccaria è arrivato a gennaio rimane Bentancur e Kuluseski non fanno più parte della Juventus quindi non si discute Bentancur tra l'altro a titolo definitivo non è più un giocatore della Juve quindi niente Kuluseski in realtà Ottenham potrebbe riscattarlo al termine di questa stagione penso che lo farà perché ha avuto un ottimo impatto Massimiliano Allegri su Massimiliano Allegri che cosa mi dite? perché Massimiliano Allegri in teoria si dovrebbe mettere nel rimane al 100% perché ha 3 anni di contratto però ci sono alcune voci e allora si potrebbe mettere nel limbo in realtà io ve lo metto in altro molto probabilmente ve lo metto in altro perché? perché ne ho già parlato sul canale vi ho già detto per me rimane per me però attenzione che ci sono degli incastri che mi fanno pensare che qualcosa possa accadere alla Juventus nei piani alti dirigenza forse addirittura presidenza ed è ovvio che se cambia la classe dirigenziale a ridaglie ancora una volta magari si deciderà su ricominciare con una guida tecnica a ridaglie ancora una volta quindi nonostante risultati non eccezionali non fantastici non da sogno raggiunti da Allegri quest'anno al suo ritorno alla Juventus per me rimarrà alla guida della Juventus ma sull'allenatore come ben sappiamo c'è sempre un disegno più ampio da fare dietro la Juventus in questi anni comunque li sta cambiando come mutande e quindi non me la sento di dare delle certezze lo lascio in altro questi signori è la tier list completa che vi ho fatto vi ho dato le spiegazioni quindi è venuto un video un po' lunghettino spero che vi abbia fatto piacere spero che vi sia piaciuto fatemi sapere se volete quello con gli acquisti i potenziali acquisti e fatemi sapere anche con le vostre tier list che trovate qui sotto in descrizione secondo voi che rimarrà secondo voi che rimarrà nel limbo che rimarrà fuori al 100% fatemi sapere anche le vostre tier list grazie a tutti